Bentornati al nostro appuntamento su Rete8, proseguiamo a vedere le altre novità introdotte dalla manovra, abbiamo visto nelle scorse puntate il riscatto laurea, c'è un altro intervento che è finalizzato a coprire eventuali periodi di buchi che i lavoratori dovessero avere. Viene chiamata pace contributiva dalla norma, la pace contributiva quindi è la possibilità di sistemare la posizione assicurativa per periodi che non sarebbero coperti da contribuzione, è riconosciuta sia ai lavoratori dipendenti ma anche autonomi o iscritti alla gestione separata. I requisiti sono semplici perché non possono essere riscattati periodi né si può avere contribuzione prima del 31 12 95 e i soggetti non devono essere titolari di pensione. Quali sono i periodi riscattabili? Sono riscattabili i periodi antecedenti al 29 gennaio 2019 compresi tra la data del primo e dell'ultimo contributo, quindi ogni tipologia di buco contributivo precedente al 29 gennaio 2019 può essere colmato in questo modo, ovviamente parliamo di quelli non soggetti a obbligo contributivo e quelli che non siano già coperti da una contribuzione, cioè se abbiamo un periodo che è coperto parzialmente da contribuzione non potremo poi riscattarlo completamente. Non si può riscattare tutto il periodo ma il riscatto può essere fatto per un massimo di 5 anni, anche non continuativi, quindi se noi abbiamo lavorato 6 mesi l'anno in un periodo di 10 anni possiamo riscattare i 5 anni che ci servono per coprire interamente questo periodo di 10 anni. Parte interessante per tutti i nostri ascoltatori è il costo, a differenza del riscatto laurea che prevede un costo agevolato in questo caso non c'è differenza rispetto a quanto avviene per un normale riscatto, cioè bisogna effettuare il calcolo sulla base delle retribuzioni percepite nelle ultime 52 settimane precedenti alla domanda di pace contributiva, quindi a quel punto si calcola la contribuzione e si può determinare quale sarà il costo della copertura di questo periodo. Anche in questo caso importante da parte della manovra è stata introdotta la detraibilità fiscale, il costo sostenuto è detraibile nella misura del 50% per i 5 anni successivi a quelli del versamento, quindi anche in questo caso l'importo complessivo dovrà essere ridotto del minor costo fiscale che gli ascoltatori andranno a pagare. Che facciamo con questa contribuzione? La contribuzione è valida sia ai fini della misura che ai fini del diritto, quindi si tratta di contribuzioni piena a tutti gli effetti. Vi ringrazio e ci vediamo alla prossima puntata.